La fiera in presenza ha un significato totalmente diverso da qualunque altra fiera digitale. E' bello vedere di nuovo i nostri clienti, i nostri collaboratori che ovviamente ci visitano, quindi è fondamentale il ritorno in presenza alla fiera, soprattutto la fiera Marmomac. Per quanto riguarda la Pellegrini Meccanica mi sembra di capire che abbiamo venduto macchinario in fiera, cosa che peraltro è sempre accaduta per noi, quindi la nostra è sempre stata una fiera in cui il visitatore era anche il cliente e si firmavano contratti. Questo pare sia avvenuto anche in questa edizione. Diciamo che al momento le posso dire che se è vero che poi chi ha messo la firma sul contratto mantiene la parola, direi che è soddisfacente.